Avvocato Ferraro, sono ripresi gli incontri tra lei e i parenti dei detenuti per affrontare argomenti che riguardano la salute o argomenti in genere? Dal 18 maggio si è aperta la fase 2 anche per le carceri italiane, riprenderanno i colloqui tra familiari e detenuti, ovviamente sarà in base al protocollo di sicurezza vigente solo un familiare per ogni detenuto, con l'uso della mascherina nel rispetto delle distanze di sicurezza e poi ogni operatore della casa circondariale dovrà osservare ovviamente un pretriage e verrà misurata la temperatura quotidianamente. Per quei detenuti che non hanno i propri familiari vicini è previsto poi un potenziamento dei colloqui tramite Skype o tramite WhatsApp, quindi con dei dispositivi che l'amministrazione penitenziaria ha fornito alle carceri italiane. E quindi come garante mi aspetto che questo potenziamento avvenga proprio per supplire alla impossibilità di incontro in presenza tra detenuti e familiari. Per poter avere questi incontri tra i familiari e lei che chiaramente rappresenta il garante dei detenuti c'è bisogno di fare una richiesta scritta? Anche a Crotone questa fase 2 rappresenterà una ripresa dei colloqui con il garante comunale dei detenuti, con l'ufficio che presiedo e ogni familiare che ha delle problematiche da rivolgere potrà scrivere all'indirizzo mail In questo periodo di coronavirus l'ufficio del garante si è fermato come attività o si è andato avanti proprio a sostegno del rapporto tra famiglie e detenuti? Nonostante l'emergenza del coronavirus in questi mesi l'attività dell'ufficio del garante comunale ha avuto una prosecuzione, non ha avuto soluzioni di continuità. Ci sono state diverse visite, alcune per dotare anche di strumenti di prevenzione, di mascherine, la popolazione carceraria e anche il personale di polizia previdenziaria e poi anche una visita in occasione del più recente tentativo di suicidio, quindi l'attività del garante non è mai mancata. Ci si è occupati di varie problematiche e così si farà nel corso dei mesi. Un'esigenza che si pone in questo periodo e che desidero che venga attenzionata riguarda quei detenuti che hanno chiesto la sostituzione delle misure detentive e che quindi stanno scontando la propria pena non nella casa circondariale. Ecco, in questi casi sarà l'autorità giudiziaria ad adottare una soluzione in base al caso specifico e alla situazione processuale e quindi il ruolo del garante impone anche di chiedere che vengano adottate situazioni uniformi, che non ci sia disparità di trattamento tra casi uguali e che ovviamente non ci siano mai lesioni di diritti fondamentali della persona umana perché il meccanismo del garante prevede una garanzia indipendente a tutelare i diritti fondamentali della persona. Quindi in questo periodo di emergenza non deve mai avvenire una mancanza di salvaguardia.